Loco, sei pronto per la sfida di oggi, eh? Sono sempre pronto, manca di sfida Oggi, campioncini, giriamo la ruota colorata di Minecraft, loco Per ogni porta corrisponde un Pokémon diverso Può essere un leggendario come può essere non un leggendario, loco Ma non solo, una porta non ha nulla Quindi chi si becca quella porta non ha i Pokémon alla fine E poi ci sarà una battaglia finale uno contro uno Il colore viola è il colore della scelta propria Cioè io posso scegliere quello che voglio se becco il colore viola Allora scegli, forza Io scelgo il colore azzurro, vediamo Allora, questa cosa è... Loco, sono parito molto bene con Arcius Vai, gira la tua ruota, vediamo tu cosa troverai Sono molto curioso, ovviamente il blu non puoi prenderlo, eh Blu, come va? Eh no, non puoi Verde? Verde Vai, andiamo a vedere qual è il Pokémon che ha scelto Loco Dragonite Lo accetto Uno dei miei Pokémon preferiti Dai, ci può stare, ci può stare Loco Poi, prossimo giro di ruota Sei contento del tuo primo Dragonite, loco? Contentissimo Ok, viola ancora, loco Allora, stavolta posso scegliertela io la tua porta? Facciamo così, facciamo così Il viola è per te Scegli tu un colore che vuoi, loco Dai, ti do questa possibilità No, no, io scelgo la tua porta Tu scegli la mia porta? Eh certo Ok, loco, vai Scegli pure la mia porta Tu scegli un'arancione Porta aranciosa Ok, vado Grazie, loco Non c'era scelta migliore Io ti voglio veramente tanto bene No, 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 no Vai, loco Gira pure il tuo colore Forza Non c'è cosa è ingiusta No, 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 a me è parsa veramente tanto giusta, sai Fermo Rosso Ti do la possibilità Se vuoi Di cambiare colore Della ruota, loco Vediamo Fammi ci pensare No, 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 no Sto solo pensando Ok, è che puoi spirci dentro Va bene, lo cambi Lo cambi? Ok, stai là fermo Guardo cosa trovavi Ok, interessante Vai Cosa l'ho trovato? Eh, dopo te lo dirò Vediamo se hai fatto una scelta Ancora Ah, no, no, te lo pigli Eh, non è No, 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 basta Te lo piglio da forza? Eh, sì, sì, sì Vai, guarda Hai trovato un Dark Kray Ho trovato No, è forte Dark Kray Ma che dici? Tu hai trovato Kyogre? Vabbè Ma questo non c'entra niente, loco Tu l'hai scelto per me, eh, Kyogre Cosa vuoi da me, oh Vai Prossimo giro Prossimo colore Secondo te, loco, che colore sceglie? Che colore esce soprattutto È il verde Ok Ma quanto sono un domino Loco, ma come hai fatto? Ma quanto, ma Loco Se vuoi ti leggo le mani Loco, mi è parsa veramente troppo esagerata questa cosa Vabbè, vado sul verde e vado a vedere cosa mi hai scelto Vediamo Loco? Loco mi hai truffato per caso? Mi hai truffato malissimo Loco? Come cavolo ti permetti? Vabbè, vai Prossimo colore Forza, dai Forza, vediamo quel tuo colore Spero che ti è scanchata il verde Guarda, veramente Non posso prendere il verde Guarda che fortuna che ti è andata un centimetro dal verde Vai Blu Cosa hai trovato? No, vabbè, loco Ragazzi Loco è la persona più fortunata del mondo, eh Qua io non ho veramente parole Vai, loco Vieni Gira la ruota Vai tu Adesso il tuo giro Vai Vediamo cosa troverà il nostro caro campioncino Loco Lockhees, ragazzi Magari un Pokémon scarso Rosso? Vai Vada pure col rosso Vada pure col rosso Chi hai trovato? Che bello, loco Che bello Un bel Pokémon hai trovato Vado io Vado io Colore, 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 colore Giallo, 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 giallo Allora, stavolta ti permetto di cambiare Dai, facciamo nel prossimo round Anche perché guarda che ho trovato Panchia Ok, Panchia preso, loco Andiamo, andiamo, andiamo Facciamo una cosa Aspetta un attimo Io adesso giro la ruota Ma è per te Tu giro la ruota Ma per me Quindi io per te Ho scelto il colore Arancione Vai, loco Chi è andato? Chi hai trovato? Tandorus Dai, non male, loco Non male, non male Dai, vieni qua, loco Vieni qua, dai Gira la ruota per me Io giro per te Vai, vediamo Mi raccomando, non ho l'arancione, loco Che era veramente schifoso, eh Però mi raccomando Niente arancione Blu Allora, se vuoi Puoi cambiarlo Lo cambio Lo cambio Me lo sento, loco Dai, cambio questo colore Perché non mi piace Vai, vediamo, vediamo Cosa sceglierà il nostro giovane campioncino Loco, lochis Rosso Rosso Ok, ragazzi Speriamo che sia un Pokémon potente Via Beh, dai Non male Il blu cos'era? Vediamo Cos'era il blu? Dai, mi è andata meglio Mi è andata meglio, mi è andata meglio Mi è andata meglio Entei Molto bene Molto, molto, molto bene Poi Prossimo giro Tecnicamente dovrebbe essere L'ultimo L'ultimo se non erro Quindi Andiamo, loco Mi raccomando Abbiamo entrambi una possibilità di cambiare colore Ti avviso Ora Giriamo la ruota Io vado di color verde Lo cambi o non lo cambi? Tu cosa mi consigli, loco? Secondo te Ti controllo Ok Vai Vediamo cosa mi dirai Cosa mi dici, loco? Cambio Cambio Dai, lo cambio Mi fido Mi fido L'ho girato Quindi ora non posso più prendere il verde Vediamo Esatto Loco, sei uno schifoso maledetto Mi hai tolto il Pokémon più potente della storia di Pokémon No, no, no No, no Color viola Sì Color viola Verde Non puoi Non puoi L'hai ricettata prima Questo è il karma Questo è il karma che ti ha punito, loco Questo non è il karma Sto godendo Vai col tuo prossimo colore Spero che il verde non ti esca Cos'è il karma Vai, vediamo Vediamo il karma sarebbe che ti esce ancora il verde Arancione Non lo cambio Non lo cambi? Anzi, lo cambio No, aspetta Ok, l'hai cambiato Vediamo L'hai quasi Viola No, non ci credo No, non ci credo Non è vero il viola Non è vero ragazzi Non ci voglio credere L'hai quasi Non ci voglio veramente credere Andiamo a far sua sfida Si parte quindi con questa battaglia Cari amici Loco, sei pronto? Eh, vediamo chi è Tu hai solo 5 Pokémon E io nel 6 Hai ragione, loco Io ho 5 Pokémon campioncini Perché purtroppo ho trovato Una porta completamente vuota Ma loco ha il suo Cresselia Quindi Osserviamo per bene E vediamo cosa riusciamo a fare In questa battaglia Pokémon Ti fa schifo questo Cresselia Per caso, loco Beh, se posso dire Comunque una cosa, loco Tu in tutto ciò Mi hai tolto ben 114 di vita per adesso Però, mi spiace per te Ma il tuo Cresselia È morto, vero? Sì, ci ha abbandonato ragazzi Molto bene, molto bene Eh, loco vuoi cambiare Darkrai Certo che è morto Darkrai è veramente un Pokémon Molto potente ragazzi Lo sappiamo tutti quanti Non so perché a loco non piaccia Ditemi qua sotto nei commenti Qual è il vostro Pokémon preferito E vi lascio un bel cuoricino Anche perché loco ragazzi Con il prossimo attacco Morirà Loco Io ti ho eliminato due Pokémon E tu zero E io partivo con un Pokémon in meno Vuoi dirmi che per caso Finisco tutta quanta questa battaglia Con un solo Pokémon leggendario? È arrivato adesso Ti distruggo con Uragano Ok, va bene Ti vedo comunque sempre in difficoltà Nonostante il tuo Uragano Mi abbia fatto un bel po' di danno, loco Ma io te ne faccio di più E vai a vita rossa Ma tu Non mi hai attaccato Ma cosa? Ma non è E quindi Arceus ragazzi Di conseguenza Loco non mi ha attaccato Ha preso l'attacco Ed è morto lui Oh Ma finalmente abbiamo il nostro amico Raiquaza Uno dei Pokémon leggendari più belli Ma cosa è questa cosa? Bene Oh Finalmente ragazzi Loco mi ha eliminato un Pokémon Loco Come ti senti eliminare un Pokémon? Oh grande Ora Ma non è possibile Ti ha distrutto Il tuo Raiquaza Leggendario Loco Ma è la cosa più impossibile Che mi ha visto in vita mia Ti vedo un po' in difficoltà Onestamente parlando In queste battaglie Pokémon Loco Di conseguenza Metterò il mio leggendario Più scarso In questo momento In battaglia Signor Snorognok Loco E questo è più scarso Sì È proprio lui È purtroppo Loco È un po' il mio scarso In questo momento Ti faccio una mossa Che toglie solo 40 Ma spero che ti bruci il Pokémon Dannazione Non te l'ho bruciato Sto distruggendo Ti distruggo Eh Loco Mi sa che lei Sta un po' vivendo Nel mondo dei sogni Dato che le ricordo Che l'ho eliminato Tre Pokémon leggendari Signor Loco Anzi due leggendari E un Pokémon normale Quindi Grazie Loco Mi hai eliminato Veramente in te Loco Mi hai eliminato Ok Ok No va bene Loco Cioè io Ah non è debole Tu sei debole Ti prego dimmi Non è debole Mewtwo a nulla Loco Loco Mewtwo è il leggendario Più forte della storia Quindi mi dispiace per te Ma tu non mi fai nulla Ti ho fatto un po' di male Tu sei niente In confronto a Mewtwo Sì Ebbene sì signor Loco Loco Tu hai eliminato ancora Vabbè poi Sei morto Tu è morto A me pare esagerato Mettere in campo Un Groudon Loco Io Non lo vedo Come una cosa rispettosa Nei miei confronti Loco Loco Però il tuo Mewtwo È morto Distrutto Asfaltato Confermo che tu mi hai eliminato Il Mewtwo Loco Lo confermo Volentieri Solo che io adesso Metto in campo Un Pokémon molto potente Che ti paralizzerà Mi ha fatto un bel po' di danno Ma io te l'elimino Loco Hai perso la battaglia E di conseguenza Noi abbiamo vinto Campioni Ci fermiamo qua E ci vediamo In un prossimo video Ciao Ciao